Oggi chiediamo allo Spirito Santo la grazia di apprezzare e di amare il silenzio. Dal Salmo 36, sta in silenzio davanti al Signore e spera in Lui. Oggi, Spirito Santo, ti chiedo il dono di amare il silenzio, sia esteriore che interiore. Aiutami, ti prego, a stenermi per qualche momento, ogni giorno, dal frastuono della televisione, della radio, dalle chiacchiere inutili. Conduci il mio spirito nelle profondità del silenzio interiore per rendermi capace di ascoltare il sussurro del Tuo amore, che ha la capacità di rasserenare la mente, riempire il cuore e dilatare l'anima. Sollevami sulle Tue ali e portami nel deserto interiore, perché io possa trovare nel silenzio la Tua presenza e le risposte che cerco, dalle piccole questioni del quotidiano e grandi problemi della mia vita. Se Tu vedi che in me si annida la paura del silenzio e dell'introspezione, rivelami la causa di questa mia ansia e risanami. Insegnami, ti prego, a stare bene in solitudine, per imparare così a stare bene con la mia famiglia, con gli amici e con tutti gli uomini e donne, di buona volontà. Amen.